Adesso passerei la parola alla più presente Angela Prota, cantante, e tu presenterà, parlerà di questo video che avremo a vedere. E se non tu esce la luce, non so tu esce la luce. E se non tu esce la luce. Eh, non ho questa accenda qua. No, perché per me è più significativo. Sono tre trami composte dal grande compositore Roberto Brandin, che è un compositore della musica contemporanea. Lui ha scelto personalmente i tre testi di Bruno Mancini, che sono molto raffinati e intensi. Però la tematica è la morte. Allora mi è venuta l'idea di traumatizzare maggiormente questa tematica, girando questi video in chiesa, a cospetto di Dio. Quindi ho scelto il più significativo, perché lui si rivolge in un rabbio verso Dio, perché non capisce il senso della morte. Il senso di Dio è sempre l'oceano, Di uno sta e l'oceano, oceano, 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 oceano! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.